buonasera benvenuti otto e mezzo sabato buonasera benvenuto giampiero mughini scrittore giornalista buonasera giordan foresi di sky tg 24 e buonasera benvenuta corinna de cesare giornalista del corriere della sera come sapete questa settimana è stata approvata all'unanimità la norma del revenge porn contro la porno vendetta ma basta una norma una legge per difendere la privacy ai tempi di internet dei social e dell'esibizionismo diffuso subito dopo la pubblicità giampiero mughini allora questa settimana è stata varata all'unanimità la norma del revenge porn quindi contro la porno vendetta ma ci si chiede se basti una legge per proteggere la nostra privacy ai tempi dei social di internet e anche di un esibizionismo molto molto diffuso beh beccare dei farabutti e affibbiar loro una pena è comunque buono per quanto la tua domanda generale io trovo che la parola privatezza andrebbe tolta dal dizionario perché non corrisponde più a una realtà non c'è nessuna privatezza nella nostra vita siamo oggetto e bersaglio di molteplici comunicazioni e irradiazioni è vero e allora vogliamo ridere vogliamo ridere io sono bersagliato bersagliato come tutti no come tutti perché se tu compri faccio per dire un vino compri un vino nel negozio dal dettaglio online probabilmente questo negozio prima o poi dai il tuo indirizzo e tutti i mercanti di vino cominciano a bersagliarti dalla mattina alla sera prima di chiedere a te che hai anche scritto un libro corina de cesare c'è troppa poca privacy o c'è troppo esibizionismo imprudente secondo me dobbiamo un po' cambiare il punto di vista nel senso che qui parliamo di foto immagini che devono restare private che diventano pubbliche e lo diventano in una velocità impressionante perché come sappiamo una volta che arrivano sul web e che da piattaforme diciamo offline passano invece piattaforme online è molto difficile fermare la loro diffusione e ovviamente sappiamo abbiamo seguito anche tristi casi casi di cronaca su queste cose quindi diciamo il problema più che altro è che si è diffusa nella cultura non solo dei giovani attenzione perché uno degli ultimi casi riguardava l'ho visto sì tra l'altro jeff bezos che voglio dire se succede a lui che capo di una delle più grandi multinazionali nel mondo è uno dei l'altro jeff praticamente amazon ricordiamolo che è rimasto vittima di un maccheraggio delle foto intime private con una signora che però non era sua moglie immagini che uno come lui si mette a mandare le parti intime ad una signora ma come si può pensare una cosa del genere ma sono affari come si può pensare no certo ma io per carità per carità diciamo che diciamo che la differenza di quello che si possa pensare molto diffuso e sta diventando sempre più diffuso anche tra i ragazzi così e purtroppo diciamo che gli strumenti anche per difendersi sono ormai diventati obsoleti e con il reato che che adesso appunto è passato e l'abbiamo visto l'approvazione alla camera del reato di revenge porn in realtà non è che si risolva granché nel senso che comunque sì certo chi viene beccato viene punito severamente ed è già un primo passo però aspetta corina perché voglio interpellare jordan foresi perché allora tutti dovremmo sapere che i nostri dati personali sono oggi molto vulnerabili no ma noi siamo ignoranti incoscienti o solo vittime perché quando corina di cesare dice beh però insomma se io faccio delle foto intime dei filmini saranno anche un po fatti miei certo il discorso però finiscono rischiano di finire sul web di finire sì partiamo da un punto secondo me principale è che i nostri dati hanno un valore nostre informazioni hanno un valore all'interno di quello che è il cyber mondo ma posso dire che siamo ignoranti sicuramente perché nella nostra vita quando noi pubblichiamo sui social mettiamo le nostre informazioni su internet non andiamo mai a vedere dov'è che realmente vanno a finire queste informazioni queste foto la mani trionfa su tutto assolutamente ma siamo anche incoscienti bisogna dire perché noi spesso e volentieri diciamo beh questa cosa non può succedere a me mai io potrei essere hackerato da un predatore non succederà mai che sono un pesce piccolo e invece prontamente succede e siamo anche vittime perché come dicevo prima le nostre informazioni hanno un valore reale all'interno del cyber mondo e c'è una linea sottile dobbiamo dire tra il predatore che vuole approfittare della situazione ma anche dei nostri errori perché siamo noi spesso e volentieri che mettiamo le nostre informazioni su internet non pensando che poi queste informazioni alla fine fanno gola molti giampiero mughini c'è che ha scritto che l'unico modo per evitare che foto o video intimi personali finiscano nelle mani sbagliate è non farli non fare foto non ma sai ancora prima che per questo io trovo allucinante tutto ciò perché la morte dell'erotica l'erotica e l'allusione e l'ammiccamento e tutto ciò che è insinuante non le parti intime le parti intime sono la morte dell'erotica se uno ha una comunicazione erotica con la propria compagna con il proprio compagno beato lui che questo sia lo strumento della comunicazione erotica mi disgusta io dico sempre in questi casi che una delle immagini più erotiche che conservo di una mia amica di una mia amica è l'immagine lei un giorno siamo usciti assieme e lei aveva una maglietta un po' scollata dei jeans dei jeans e delle scarpe da tennis però lo faceva con una tale eleganza tutto questo lo indossava con una tale eleganza capisci quella erotica corinere cesare per un mughini è un po come dire antiquato con questa visione ma io sono assolutamente d'accordo con lui però diciamo che la realtà è un po diversa da quella che ci immaginiamo e da quella che ci prefiguriamo nel senso che appunto le indagini anche di save the children e di molte altre associazioni dimostrano che è sempre più diffuso tra i ragazzi il sexting cioè il mandarsi messaggi appunto di foto con foto intime è sempre più diffuso tra i ragazzi fino ad arrivare al 40 per cento di penetrazione tra i giovani quindi una volta che c'è però facciamo in modo che queste immagini siano protette c'è una cosa fondamentale che mi preme sottolineare per esempio è che nel resto degli altri paesi si è dato molto peso al ruolo delle piattaforme tecnologiche per esempio perché una volta che queste immagini finiscono sui social o sui motori di ricerca è davvero difficile molto complicato riuscire a toglierle a cancellare definitivamente tanto più che in italia non esistono proprio le sedi legali di alcuni questi di queste multinazionali e i tempi sono veramente lunghissimi quindi una volta che c'è il fenomeno io posso essere d'accordo con mughini però bisogna far fronte anche agli strumenti per prevenire quello che succede corinna posso chiederti tu che precauzioni prendi per te stessa per la tua vita partiamo dal fatto che io sono in una fase in cui i video che vedo sono quelli di baby shark perché una bambina di due anni e mezzo quindi e poi non mi appartiene non mi appartiene assolutamente questa cultura sono assolutamente d'accordo con mughini su questo non ho mai fatto foto di questo tipo né video però questa sono io e gli altri possono essere stata esattamente all'opposto di quello che sono io che penso io e quindi se l'uso è comune sta diventando comune bisogna pur far qualcosa jordan da fuori si tu che precauzioni prendi per te e siccome tu hai scritto questo libro i segreti del cyber mondo nel labirinto digitale nessuno è al sicuro pubblicato da de agostini e se nessuno è sicuro bisogna insegnare ai ragazzi ragazzini bambini corinna quando sua figlia diventerà un po più grande poco perché ormai i bambini prestissimo cominciano a giocare con i cellulari computerini eccetera bisogna semplicemente dire guardate che tutto quello che mettete dentro questo aggeggio sulla rete può sembrare una risposta in qualche modo ripercuotersi contro di voi assolutamente assolutamente io quello che dico spesso e anche se può sembrare una risposta banale bisogna sempre pensare all'abc cioè capire esattamente quello che noi pubblichiamo quello che noi vogliamo immettere all'interno di un sistema e sapere che quel sistema potrebbe anche ritorcersi contro ma è possibile sarebbe possibile fare quello che faceva riferimento corinna mettere in moto delle dinamiche oltre alle leggi alle norme anche delle fare dei passi tecnologici per obbligare i big five le grandi piattaforme da facebook a twitter amazon è difficile ma assolutamente instagram soprattutto quello che è anche social network è possibile tecnicamente farlo è possibile tecnicamente farlo ma ci vuole tempo e soprattutto ci vuole anche una comunicazione diversa verso questo problema i segreti all'interno del cyber mondo ci sono ma chi ha segreti all'interno del cyber mondo sa come difendersi agli strumenti per farlo quindi è ovvio che in una situazione dove noi esseri umani che ci divertiamo che cerchiamo anche così di portare delle delle novità o comunque anche pubblicare foto e divertirci dobbiamo anche noi avere i nostri modi per proteggerci e spesso e volentieri il modo è pensarci prima pensare prima di scrivere un tweet al volo prima di pubblicare help yourself aiutati che dio ti aiuta perché alla fine può fare la cultura cioè insegna la cultura digitale nelle scuole non esiste se non grazie ad alcuni presidi illuminati tanto si può fare partendo da quello cioè insegnando ai ragazzi come approcciarsi ma c'è poca cultura in italia da questo punto di di vista sono d'accordo c'è poca cosa dire così la cultura digitale però è una figlia è un'espressione della cultura in generale è perché tu hai una certa idea del mondo di te stesso dei rapporti dei rapporti tra gli uomini e le donne hai questa idea e dunque usi il mezzo perché soltanto un mezzo non è nient'altro che uno strumento come lo era la carrozza a cavalli usi quel mezzo a seconda di questa tua costituzione spirituale iniziale perché la costituzione spirituale iniziale è quello che fa di una persona una persona e tu dove custodisci i tuoi segreti qui dentro la mia testa quindi non lasci tracce eventualmente imbarazzate beato lui che ha memoria ecco una questione di memoria ma corina del cesare non sarà che alla fine non dico perché dire alla gente in generalizzare non ha mai tanto senso ma parliamo dei più giovani che non ci tengano poi molto alla loro privacy alla riservatezza che non sia un semplicemente un valore che io non credo che sia così io ho parlato appunto con con un avvocato un professore che tra l'altro si sta si sta occupando di un paper di un progetto con università di bolzano proprio sul revenge porn e lui mi raccontava insieme anche un'altra ragazza silvia semenzine di insieme in rete che i ragazzi sono molto molto interessati a capire come possono prevenire queste cose e gli strumenti però glieli dobbiamo dare anche noi cioè dobbiamo ovviamente aiutare i ragazzi ad avere una maggiore consapevolezza no quindi è sempre una questione di educazione istruzione jordan foresi tu eri su facebook i ragazzi di per sé non è che siano necessariamente peggio degli adulti ho fatto un viaggio in treno l'altro giorno tre ore roma milano ero seduto accanto a un signore che non era un ragazzo non era neppure un giovane era un uomo adulto lui aveva un telefonino l'unica cosa che aveva in mano e faceva così cioè non guardava nulla ma lo faceva scorrere per tre ore di seguito e io ho pensato alla fine il suo voto vale quanto il mio hai capito sì io credo di aver capito jordan foresi tu perché ti sei tolto da facebook perché è un fatto di utilità alla fine non lo trovo uno strumento utile e quindi ho deciso di chiudere il mio account dopo parecchi anni e sono ancora qui che parlo con voi quindi c'è un mondo oltre i social dal mio punto di vista non era paura di hackeraggi o situazioni simili semplicemente ho capito che facebook non era uno uno strumento per per il sottoscritto non non mi divertiva più come come social ma tutto questo è un po mughini la vendetta della civiltà dell'immagine del reality show della del mettere la propria vita possibilmente in diretta a disposizione di tutti h24 beh certo è una filiazione del moderno e cioè dell'idea a che le immagini sono molto importanti a che tutto ciò che fa parte del tuo personale importante la vita reale le vite reali degli uomini reali e non le cose che esistono nella nuvolaglia dell'ideologia o delle idealità o dei progetti ciclopici certamente poi bisognava governare questo moderno io l'ho visto nascere il moderno anzi per generazione modestamente sono quello che ha contribuito assieme a milioni di altri a farlo nascere ma proprio perché l'ho visto nascere e beh so valutare le immagini ma le immagini sono cosa stupenda le immagini ma le immagini sono bellissime l'arte la grafica la pubblicità e i giornali a rotocalco sono meravigliosi ma le parti genitali no sorride corina de cesare perché sorridi e governare le parti genitali nell'arte sono state molto presenti naturalmente sì in un quadro famoso che aveva comprato Lacan non è la stessa cosa ecco corina quindi si può e si riesce a governare questo moderno questo moderno scusami scusami sentiamo un po' dove la televisione gioca ancora un grandissimo ruolo nel bene e nel male certo si dicevano le stesse cose ai tempi per la televisione cioè quindi cambiano gli strumenti a me piace citare McLuhan quando diceva non siamo passeggeri della nave terra siamo parte dell'equipaggio però siamo parte dell'equipaggio che cosa significa che siamo noi a costruire anche la realtà circostante e stiamo noi a far parte della società e anche a a dover utilizzare degli strumenti che ci possano consentire di guidare bene questa nave terra no Giordano Foresi che cosa hai scoperto indagando il cyber mondo e capendo alcune logiche vedendo alcune dinamiche che siamo sicuramente all'interno di una di un labirinto dove è molto facile entrare ma è molto anche difficile uscire un labirinto non esiste non esiste non esiste e è sicuramente un mondo affascinante che ci affascina che ci attrae è un po il vasetto di miele che noi vediamo e ma una volta entrati spesso e volentieri non abbiamo gli strumenti per uscire rimaniamo incastrati in questa situazione e spesso e volentieri anche il fattore umano che colpisce cioè l'errore umano perché perché noi umani siamo curiosi di natura vogliamo andare a vedere ad indagare ma la cosa più inquietante che hai scoperto per esempio per esempio ecco rimanendo sul fattore umano come un soldato americano ha trovato una chiavetta usb per terra e dov'è che arriva la curiosità umana morbosa di andare a vedere cosa c'è all'interno della chiavetta inserisce la chiavetta dentro il suo pc che a sua volta è collegato con vari altri computer della base militare e quella chiavetta aveva un virus un malware che ha creato enormi problemi per il per il pentagono per il ministero della difesa era un esca e gli americani hanno speso miliardi e miliardi per cercare mesi per cercare di togliere questo baco dal dal loro sistema da un errore da un errore umano non è servito una un hacker nascosto da qualche parte semplicemente facendo leva sulla nostra curiosità e alla fine il danno è stato fatto le guerre di oggi mughini sono i micallanci delle bombe che in fondo in fondo in fondo non è che mi interessi poi tanto per parlare di quella miniera che è il web quando io trovo nel web un articolo una cosa eccetera che mi interessa la stampo ritaglio e me la metto in biblioteca corina tu invece come non stampo niente come uso la rete ovviamente per noi giornalisti uno strumento fondamentale però appunto prima parlavamo del dell'esca nel nel caso di spionaggio c'è un film burn after reading dei fratelli cohen in cui succede la stessa identica cosa con un cd quindi ritorniamo sempre al punto più importante cioè cambiano gli strumenti ma in realtà sono cose già successe e ritornando a revenge porn cioè prima che scoppiasse anche il caso della sarti era stato ricordiamo della deputata del movimento 5 stelle le cui immagini intime sono state diffuse non si è capito bene per la verità bene da chi a un certo punto un mio amico appunto di arrivare a questo volevo dire che online era stato trovato un archivio pensate di 10.000 file che si chiamava bibbia 3.0 oltre 10.000 file ovviamente foto e filmati di donne categorizzate in una maniera che non sto neanche a dirvi e in qualche caso con nome e cognome c'è con dati anagrafici questa è una cosa che lascia bocca aperta e soprattutto lascia bocca aperta il fatto che per molto tempo questo archivio digitale fosse disponibile praticamente a tutti ecco quindi per tornare appunto alla porno vendetta è meglio non fare foto e video intimi alla fine cioè tua tua figlia cosa dirai che sarà anche peggio forse quando tua figlia sarà nell'età dell'adolescenza a due anni e mezzo quindi non ci voglio pensare in questo momento però mi viene in mente uno spot australiano che hanno fatto proprio per diffondere una maggiore consapevolezza tra i ragazzi e lo spot dice se vuoi fa se lo vuoi fare non metterci la faccia mettici il di dietro io sono un po più non dico proprio la parola però è questo il senso particolarmente e il governo italiano è stato particolarmente colpito da questo aspetto che indubbiamente grave ma perdonami lilli nel web credo che ci siano tre o quattro siti a mio nome in cui io non c'entro nulla i quali se la spassano di facendomi dire attribuendomi eccetera io la prima volta sono andato alla polizia postale ho perso una mattina ho indicato un certo affare dopo tre anni mi hanno mandato da catania dal tribunale catania perché questo farabutto era un siciliano mi hanno mandato un messaggio dice oggi facciamo un'udienza con questo signore da loro non saputo più nulla non è che in questi casi questi casi come si dovrebbero risolvere in cinque minuti tu hai fatto un sito falso attribuisci ma cosa ti tocca tre mesi sei mesi paghi 5 mila euro da dare ai bambini dell'africa no no non succede nulla nulla e quindi di che cosa stiamo parlando infatti il rischio è proprio questo figuriamoci per appunto delle immagini immagini è scattata in intimità il punto è anche a due persone possono fare nella loro intimità quello che vogliono questo siamo d'accordo anche se lo sicuro più più se ne inventano meglio è quando queste immagini arrivano ad essere diffuse per x motivi cioè la legge deve essere immediata cioè io non posso aspettare tre mesi sei mesi sette mesi un anno due anni per vedere cancellate quelle foto ed è questo il punto è questo il punto che in realtà neanche questo emendamento inserito nel codice rosso affronta quindi non non abbiamo fatto poi così grandi passi avanti pochi ci sono ancora tantissimi da fare anche dal punto di vista della comunicazione della politica della tecnologia siamo indietro e dobbiamo comunque muoverci a passo con i tempi è una sicuramente una situazione molto complicata molto complessa ma che dimostra che dobbiamo muoverci assolutamente per per una tutela e per cercare di muoverci anche per la nostra anche perché non solo per tutelare la nostra riservatezza ma anche perché dobbiamo essere consapevoli che noi in realtà noi i nostri dati personali sono la merce più preziosa per i grandi colossi di internet hanno sicuramente un valore personali vengono solo per loro e non solo per loro per i partiti politici come ci ha insegnato cambridge analitica insomma viene fatto un uso del dei nostri dati personali e quindi magari ridurre al minimo l'esposizione non sarebbe non sarebbe male però siccome andiamo verso mughini la democrazia diretta se pensi al movimento 5 stelle con la piattaforma russo non usare queste parolacce in mia presenza scusami siccome c'è stata una multa del garante della privacy credo nei confronti della piattaforma russo quella dei 5 stelle che ha rilevato tra l'altro che come loro votano sempre nel voto è manipolabile ma manipolabile che il sistema vulnerabile eccetera eccetera ma a parte questo a parte questo stando alla democrazia diretta tu pensi che nell'america del 1941 avessero fatto il referendum entravano in guerra contro i nazisti e contro i giapponesi non credo non credo io non credo affatto alla democrazia diretta credo al lavoro e alla qualità dell'elite elite scritto elites ecco capisci corina hai capito qui siamo niente un'era del dinosauro qui ormai sì sì ma su questo sono d'accordo con lui quindi giordano assolutamente bisogna la vulnerabilità dei nostri dati è una dato di fatto dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo cercare anche di difenderci ma con con delle idee ben precise non possiamo gettare nell'oceano delle informazioni soltanto dei dei numeri o delle o delle leggi dobbiamo essere ben preparati per per il mondo che non è il domani è il mondo di oggi io penso poi per tornare al discorso della democrazia diretta insomma restiamo con la democrazia rappresentativa no che forse quello che finora ci ha tutelato meglio rispetto assolutamente anche se lì succede che i rappresentanti non siano quelli di un tempo non ci sono più i rappresentanti di una volta sai i rappresentanti di una volta si chiamavano De Gasperi, Andreotti, Togliatti, Nenni, Lamanco è così che oggi ci sono tantissime persone molto molto più giovani contemporanee che sono serie preparate per bene il grado di rappresentare quello che vedo nel nostro parlamento non mi induce al tuo ottimismo no va beh insomma io sono un po' più ottimista e sono talmente ottimista che vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro adesso perché l'unico dato certo a ogni accesso nostro di internet è che appunto in realtà non controlliamo nulla pochi secondi di pubblicità e poi il punto nel luglio del 2015 un gruppo hacker che si firmava Impact Team comunicò di aver trafugato i nomi dei circa 37 milioni di iscritti ad Ashley Madison famoso sito per appuntamenti extraconiugali da prima vennero pubblicato solo alcuni dati nel dark web cioè in quella parte oscura della rete a cui si accede attraverso specifici software ma di fronte al rifiuto di chiudere il sito da parte della società canadese proprietaria ad agosto dello stesso anno furono pubblicati i nomi di ben 33 milioni di utenti del servizio l'eco di questa incredibile intrusione nella privacy delle persone fu di livello globale perché i fruitori dei servizi di Ashley Madison erano ovunque in Italia per esempio se ne parlò in particolare ad Ascoli Piceno in quella provincia delle Marche risiedevano 1500 persone che avevano usufruito dei servizi dell'agenzia di appuntamenti o magari si erano solo iscritti senza avere mai incontrato nessuno questo caso di hackeraggio è fra i più tristemente noti perché la pubblicazione dei dati indusse al suicidio alcune persone milioni di individui vissero un periodo molto difficile della loro vita e senz'altro molti ancora ne pagano le conseguenze si scoprì poi oltretutto che gran parte dei nominativi femminili che comparivano nel sito erano falsi questo episodio viene raccontato da Jordan Foresi e Jack Caravelli nel libro intitolato I segreti del cyber mondo pubblicato in questi giorni da De Agostini è una guida per orientarsi e non soccombere nel labirinto digitale tenendo bene a mente che come osservava Zegun Bauman internet è una rete e non una comunità su cui poter contare come su un amico vero quello che si riconosce nel momento del bisogno Jordan Foresi dimmi la cosa più importante da fare per non essere vittime della grande web cercare di pensare prima di pubblicare e poi ci sono altri punti ma sono nel libro allora non vado oltre già pensare prima di pubblicare è un bello sforzo Giampiero Mughini volevo ricordare che è uscito questo tuo nuovo libro pubblicato da Marsiglio, nuovo, vecchio, che si chiama Via della Mercedes c'era un razzista lo strano caso di Telesio Interlandi perché dovremmo leggere questo libro? Per parecchi motivi il più importante dei quali è capire meglio qual è stata l'Italia del tempo della dittatura e del tempo del fascismo un'Italia che non è lontana ai millenni ma è lontana a una o due generazioni l'Italia in cui ha vissuto mio padre che era fascista e in questa Italia i personaggi erano come sempre tanti, contraddittori, talora interessanti, talora mascalzoni ma dove non c'era un limite, un muro d'acciaio che divideva il bene e il male capisci? e quindi vedere questo intrigo, queste infinite sfumature del grigio non soltanto in nero, non soltanto in bianco penso che educhi la mente Allora, per educare le nostre menti uno, a Via della Mercedes c'era un razzista di Giampiero Mughini, edito da Marsiglio e i segreti del cyber mondo scritto da Jordan Forese e Jack Caravelli per De Agostini grazie, grazie Corinna De Cesare grazie Jordan Forese, grazie Giampiero Mughini grazie spettatrici e spettatori vi lascio alla serie televisiva Little Murders by Agatha Christie e noi come sempre ci vediamo lunedì, 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti